Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua. Non mi sono fatto sentire per un po' perché come potete immaginare è stato un periodo molto difficile nella mia vita perché ho dovuto fare un cambiamento molto importante. Ora vi voglio spiegare un po' di differenze fra Svizzera e Germania, Svizzera tedesca e Germania. Quello che ho notato io e le prime difficoltà quali sono stati? Innanzitutto la prima difficoltà è stata già dall'inizio, quando ero in Germania io avevo un buon lavoro, io lavoravo in una terapia intensiva, in una stazione intensiva, avevo un buon lavoro, qui adesso ormai lo posso dire, ero arrivato agli ultimi stipendi dove prendevo netti 3.600 euro e quindi era molto difficile dire lascio questo lavoro dopo sei anni che ero lì, ero diventato anche capoturno, quindi avevo alcune responsabilità, mi trovavo molto molto bene ed ero in una dei lander tedeschi, il Nord Reno Westfalia, più forti e più interessanti secondo me, proprio dal punto di vista di com'è fatto, città gigantesche una dopo l'altra, la vicinanza all'Olanda, ad Amsterdam, a Bruxelles in un paio di ore e così via. Quindi io ero molto soddisfatto con la mia vita in Nord Reno Westfalia. La mia ragazza aveva trovato un lavoro qui in Svizzera, è venuta in Svizzera e per un anno quasi abbiamo fatto sempre questa cosa di guidare, dovevamo ogni volta guidare 700-800 chilometri e indietro, quindi 1600 chilometri solo per vederci, è stato molto difficile e io non sapevo se lasciare il mio lavoro, proprio perché non sapevo quello che mi poteva aspettare qui in Svizzera, Svizzera tedesca. Ho sempre fatto tanti video di paragone tra varie nazioni, tra quello che pensavo io, tra le statistiche, lo sapete, e diciamo così che per trovare lavoro è stato molto difficile perché ci ho impiegato quasi sei mesi per riuscire a trovare un lavoro e poi in due settimane mi hanno chiamato praticamente in tanti. Mi sono trasferito e i primi tre mesi sono stati molto difficili perché adesso ho superato anche il periodo di prova quindi sono a tempo indeterminato e così via. È stato difficile perché prima cosa, il primo scoglio più grande è stata la concorrenza, nel senso che mentre in Germania trovare un lavoro è relativamente semplice, relativamente semplice, in Svizzera avete una concorrenza non solo di tutte quelle persone in paesi, ad esempio dell'est, molto molto qualificate, ma in Svizzera avete anche la concorrenza ai paesi vicini. Qui lavorano tantissimi tedeschi e tra l'altro dei tedeschi, io vi faccio un esempio, ero proprio adesso ad un corso di, un weiter build, un corso di aggiornamento e su dieci persone erano sei della Germania ma tutte quando sono presentate con curriculum incredibili, quindi tutte dalla terapia intensiva, da sala operatoria e così via e quindi la concorrenza anche per entrare in un posto di lavoro, vi parlo dell'infermiere, è pazzesca. Inoltre in Svizzera entra secondo me, non dico la creme della crema, è il top davvero nel senso che hai così tanta concorrenza che poi diventa molto complicato trovare un lavoro perché hai tante persone che si candidano per quella posizione e quindi questa è una grossa differenza rispetto alla Germania, cioè entrare in Svizzera è molto più difficile. Già il colloquio, già solo trovare un lavoro perché mentre in Germania hai dieci posti di lavoro, così per dire, per fare un esempio, e magari due candidati, in Svizzera hai un posto di lavoro e dieci candidati, quindi e dieci candidati non candidati diciamo così poco qualificati, candidati che hanno una grossa esperienza e molto qualificati. Detto questo, quindi già molto più difficile entrare. Il colloquio, mentre in Germania un colloquio quasi più informale, in Svizzera un colloquio che dura anche giorni a volte, fatto in più giornate e sono loro che hanno coltello da parte il manico, nel senso che loro scelgono poi il candidato adatto. In Germania è un po' diversa la cosa. Quello che ho notato di diverso rispetto alla Germania è anche la mentalità delle persone. In Germania, almeno nella zona dove vivevo io, era una mentalità davvero molto aperta, anche in Svizzera l'ho trovata, anzi sono contento di aver trovato un ambiente di lavoro dove sono tutti molto gentili, però il metodo di lavoro è proprio secondo me ancora più serio, forse ancora più professionale e così via. Per quanto riguarda la Svizzera tedesca, devo dire la verità, per quanto riguarda fattore pulizia è il top, almeno per quello che ho visto io. L'unica che paragonerei alla Svizzera tedesca è l'Olanda, ma forse la Svizzera ha ancora un gradino sopra. Per il fatto, vi faccio un esempio, adesso sono passate a pulire tombino dopo tombino, anche i tombini blistano, sono puliti dentro, tombino per tombino con un aspiratore e toglievano tutte alla sporcizia e così passano una volta a settimana. Oppure a raccogliere le foglie dal marciapiede a togliere le foglie passano due volte a settimana, oppure ho visto proprio pulire i marciapiedi e anche se era sporco ripassare, ripulire. Quindi proprio questo sistema, questa efficienza, secondo me la Svizzera tedesca in questo caso è un gradino sopra, alla Germania. Poi per quanto riguarda modernità, secondo me la Svizzera vince, nel senso che già solo pagare una bolletta direttamente col QR code, fai la foto e ti paga direttamente la bolletta, anche la banca come funziona, qui sono molto più abituati al fatto di azioni, subito puoi fare tutto con l'applicazione, investire e così via. Questo in Germania è un discorso ancora molto, non dico tabù, ma un argomento non proprio così... qui è diciamo per tutti e anche alla parolata di tutti anche subito. Detto questo, un'altra grossa differenza secondo me è il sistema proprio di cranking casse, cioè dell'assicurazione sanitaria. In Germania secondo me vince su questo, nel senso che il sistema sanitario è una volta pagata la cranking casse che a metà tra datore di lavoro e tè, in Germania è un sistema secondo me proprio per tutti davvero, nel senso che è quasi tutto completamente gratuito una volta che paghi la cranking casse, quindi da quel punto di vista è meglio. Dal punto di vista delle prestazioni, quelle svizzere ancora non le ho viste perché non le ho utilizzate, però credo che come professionisti proprio per il fatto che le persone che vengono lavorare sono davvero molto molto specializzate, sia forse superiore. Un'altra cosa che secondo me, per cui non mi sono pentito di essermi trasferito, è il fatto che una volta che riesci ad entrare, secondo me lo standard che ti offre la Svizzera probabilmente in coppia soprattutto è più alto, nel senso che con due stipendi in Svizzera fai probabilmente di più di quello che fai con due stipendi in Germania, c'è il potere di acquisto. Mi sono reso conto che la Svizzera non è poi così cara, rispetto chiaramente allo stipendio. Chiaramente da solo, da singolo è sempre da valutare, perché ci potrebbero essere delle situazioni in cui conviene, in cui non conviene, però una cosa me la sento di dire, secondo me in generale, non parlerò del mio stipendio, però chiaramente se mi sono trasferito mi è convenuto, dal punto di vista del potere d'acquisto. Una cosa che secondo me è molto diversa tra Svizzera e Germania, è il fatto che proprio a livello base, cioè uno stipendio base in Svizzera, diciamo una persona poco qualificata o non qualificata, già ti permette comunque uno stipendio che almeno per la Svizzera tedesca solitamente parte ai 4.000 franchi e tu con 4.000 franchi in Svizzera fai davvero molto, quindi mi sento di dire proprio che la classe diciamo più bassa al punto di vista salariale in Svizzera sta molto meglio, cioè qui è come una classe media tedesca, cioè una classe diciamo così, una persona che guadagna in Svizzera 4.000 franchi che ha uno stipendio non così alto per la Svizzera, sta quasi come una persona in Germania che ne guadagna 3.000 di euro, quindi sta molto bene. Quindi secondo me tutte quelle persone che in Germania guadagnano 1.300, 1.400, 1.500, 1.700, stanno peggio rispetto allo stesso lavoro paragonato qui in Svizzera, che magari invece parte comunque da 4.000 franchi. Questo me lo sento di dire. Poi chiaramente è sempre a valutare caso per caso. ci sono state tante difficoltà all'inizio con la lingua, perché tanti lo chiamano Svizzero tedesco, ma secondo me dovrebbe essere proprio chiamata una lingua, dovrebbe essere una lingua autottona e proprio essere chiamata diversamente, Svizzero ad esempio, perché è molto diverso dal tedesco, perché allora a quel punto anche l'olandese è molto simile al tedesco, ma è un'altra lingua. E quindi all'inizio ci sono state tante difficoltà sul lavoro, sul fatto di non riuscivo a capire lo Svizzero tedesco e quindi avevo già dall'inizio una grossa responsabilità. ero responsabile per quasi tutta la struttura, chiamate, chiamate anche molto importanti delle volte, quindi è stato molto complicato. Adesso piano piano sto imparando lo Svizzero tedesco, però rimane difficile perché non c'è proprio un corso per imparare lo Svizzero tedesco. Quindi queste sono state le difficoltà. Poi la difficoltà era, diciamo così, che già dall'inizio ti caricano di molte responsabilità proprio perché si aspettano da te tante competenze, perché le persone che portano in Svizzera vogliono che, cioè loro vogliono che abbiano molte, molte competenze, diciamo molto alte. Quindi è molto più complicato secondo me lavorare in Svizzera. Una volta poi che impari il lavoro, poi non hai problemi, però è più difficile secondo me entrare nel campo del lavoro. Quindi in totale direi che è stato molto complicato, ma ora che ho imparato il lavoro, che sono a tempo determinato, che ho la mia routine, mi è convenuto molto venire qui in Svizzera. In generale sono due sistemi completamente opposti, uno molto basato sul sociale, quello tedesco, quello svizzero invece è un sistema un po' diverso, però sono due ottimi sistemi, uno deve vedere un po' dove si trova meglio. La Svizzera per alcune cose è davvero il top secondo me, dalla pulizia, proprio a come funziona la società, ogni campo, proprio le specialistiche che hai che lavorano, sono molto molto specializzati. La Germania offre altre cose ma in un altro senso, quindi in generale direi che ci sono tante differenze tra Svizzera tedesca e Germania le vedremo poi nel dettaglio negli altri video, però spero di avervi dato già una visione generale di quello che ho trovato io venendo qui in Svizzera tedesca. E infine c'è anche da dire che qui da cantone a cantone funziona diversamente, il canton Zurigo non è uguale al canton Luzern, il canton Zug non è uguale al canton Turgau e così via. Quindi credo che per una persona che ha molta esperienza ed è molto qualificata la Svizzera potrebbe fare a suo caso. Per una persona che invece ha delle poche qualifiche o così via credo che sia molto difficile se non impossibile entrare nel sistema svizzero. Non dimenticherei il fatto che secondo me in Svizzera senza il tedesco, nella Svizzera tedesca è praticamente impossibile. In Germania invece anche senza il tedesco, bene o male all'inizio si può trovare qualche lavoretto e poi piano piano imparare la lingua e salire. Niente, spero che vi sia piaciuto il video, ci vediamo nel prossimo e come sempre vi racconterò le mie esperienze e le mie sensazioni qui dalla Svizzera tedesca. Un saluto ragazzi e spero che commenterete in tanti. Ciao ciao!